Questo è un folle, questo è dannatamente folle, questo è matto ma matto per davvero, ma veramente, questo ha 43 anni suonati, non molla di una virgola, non molla di un centimetro, è guai a chi vuole panchinarlo, chi vuole metterlo da parte, questo è folle per davvero. Non lo dico in tono dispregiativo perché qualcuno può dire, io ho massima ammirazione per i folli, io quando mi dicono ma tu sei folle, per me è un grandissimo complimento, sarò strano, sarò un matto per davvero anche io, però è così, perché sono i folli, sono loro quelli che poi smuovono, quelli che veramente sovvertono gli equilibri. Il tempo fa si parlava di Bonucci, no, sono i folli, i folli, e Bonucci non è un folle, anzi è tutt'altro, sono i folli che smuovono, che smuovono per davvero. E sto parlando di lui ragazzi, 43 anni suonati sto parlando di lui, di Gianluigi Buffoni, questo ha 43 anni, nessuno lo fa smettere qua, guai a chi vuole farlo smettere, perché questo qua lo smette di navigo. Ne parliamo insieme, prima come al solito, pioggia, pioggia di like, pioggia o sbattimenti di like, pigiate, io sbatto la scrivania, voi sbattete, ma anche adagiatamente, no, il tasticino del like, e facciamolo diventare blu o nero, non lo so, ormai cambiano di giorno in giorno, cambiano i layout, i colori e compagnia cantante, quindi non lo so. Iscriviamoci al canale, vi ringrazio perché siamo già a 151.000, andiamo verso i 155, dai, 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 grazie davvero per il sostegno, e... GuaFootball, eh sì, perché poi se non sei lì, se non sei attivo, se non sei aggiornato, se non stai lì, sempre in movimento, è che fai? Con GuaFootball non ti perdi nulla, dell'europeo, non ti perdi nulla, quindi sulla classifica, sul calendario, non ti perdi nulla, sulle news di calcio, non ti perdi, quando dico nulla è nulla, link in descrizione all'app. GuaFootball è gratuita, sì, volevo parlare di GuaFootball, perché poi, cioè, noi ci facciamo prendere da novità, da news di calcio mercato, per la maggiore anche fasulle, no? O comunque sappiamo che il calcio mercato è soggetto a ogni variabile possibile, immaginabile. Allora, ma andiamo sul concreto, andiamo sul concreto, e quindi parliamo delle cose concrete, e il fatto che GuaFootball voglia continuare a 43 anni suonati, è una roba concreta, e perché farci un video? Perché comunque, piaccia o non piaccia, Buffon è la storia, è gran parte della storia della nostra Serie A, perché poi, lo so come funziona, se sei juventino lo ammiri, lo adori, se non sei juventino, per la maggiore sta anche antipatico per alcune situazioni. È vero o non è vero? È vero o non è vero? Ma non siamo qui per valutarlo da questo punto di vista, per la simpatia, per la morale di Vito, cazzate varie. No, siamo qui per valutare quello che lui ha dato e quello che lui ha ricevuto da questo sport, che è il calcio che, nella fattispecie, magari ha anche il nostro campionato, la Serie A, o comunque la nazionale italiana. Perché voi non voi, questo, questo qua, questo signore qua, questo Gianluigi, proprio lui, detiene quasi ogni record possibile e immaginabile, assolutamente sì. Dal numero di presenze in Serie A, mai nessuno come lui. Dal numero di presenze con la nazionale italiana, mai come lui. Quindi, come dicevo prima, piaccia o non piaccia? Questo, questo, questo è storia, sto, sto signore qua. È già storia. È già adesso storia. Per cui, per cui, eh, volevo, volevo anche studiarlo. Questi soggetti qua, vi dico, a me piace, piacerebbe studiarli, stare con loro a contatto, H24, per capire che, che pesce so. Tu che pesce sei, non so se ci siamo capiti, per capire veramente cosa sono, cosa gli spinge a non mollare mai, a trovare sempre motivazioni, a trovare sempre nuovi obiettivi. Cosa gli spinge? Cosa? Da cosa sono mossi? Queste, queste sono domande che io mi pongo spesso e volentieri quando parlo o comunque, quando penso a un professionista, quando penso a un professionista che non sia per forza di cose un calciatore, possiamo parlare anche di altri, di altri settori, di altre situazioni. Ecco, cosa ci sta nella testa di Buffon? E comunque questi giocatori, voi o non voi, anche a livello ambientale, ti danno qualcosa. Io faccio, porto un esempio personale, no? Esperienza personale. Quando, prima di, appunto, di creare un canale YouTube, giocavo, giocavo anch'io, giochichiavo, giochichiavo, no? In prima categoria. E poi, sai, lì comunque apprendi il valore del gruppo, lo stare insieme, nel condividere gioia e dolore di una squadra. Quindi sei parte integrante di un meccanismo sportivo, di un gruppo, di un team. E quindi entri in un circuito. E comunque c'era, c'era, me lo ricordo sempre, un signore, lo chiamo signore, ma è un grandissimo amico, Pinucci, no? Pinucci, no? Chiamalo no, no? Pinucci. C'era sto Pinucci qua. Ragazzi, questo aveva 44 anni, 44 anni, il doppio dei nostri anni. Ragazzi, andava a mille in canale. Andava a mille. Cioè, il primo a presentarsi agli allenamenti. Era, era, chi ne so, quando facevi preparazione, per esempio, no? Nei 400, nei mille metri. Arrivava sempre davanti a tutti. Arrivava prima degli altri. Cioè, nonostante l'età, nonostante... Cioè, nonostante... Facevi i gradoni. Lui il primo, senza sforzo, senza difficoltà. E queste persone, ragazzi, ti fanno capire come alcuni soggetti sono mossi dalla passione. E quando c'è la passione, ragazzi, non ti frena nulla. Non hai ostacoli davanti a te. E da queste persone si può apprendere tanto. Quindi, piaccia o non piaccia, è così. E da buffone, ragazzi, c'è tanto da apprendere, indubbiamente. Questo qua, adesso si parla di Parma. Si parla di Parma, del fatto che forse ritornerà al Parma. Si parla addirittura che potrebbe firmare fino al 2020-2023. Non lo so. Come ha detto lui stesso, oggi alla Rai, ascoltavo un po' l'intervista. Ha ricevuto anche offerte importanti, no? Offerte dove potrebbe essere il portiere di una squadra che comunque gioca in Champions. oppure di squadre che sono anche protagoniste in Champions, ma lui dovrebbe fare la riserva. In quel caso, assolutamente no, perché lui vuole giocare. Perché lui vuole essere protagonista. Non vuole essere lì messo da parte. Vuole essere protagonista. E ribadisco, è una roba incredibile. Questo qua ha giocato 5 mondiali e mira, mira, sono sicurissimo, mira a giocare il sesto. Questo è l'obiettivo. Di non ritirarsi, giustamente, prima del prossimo mondiale. Vabbè, che è imminente. Ormai possiamo anche dirlo. Però, ragazzi, questo veramente è smosso. Cioè, ha una verità incredibile. È una roba fuori dal mondo. 43 anni e non sentirli. E non sentirli minimamente. Boh, incredibile. Ripeto, questo è un folle. Questo è un folle per davvero, ma lo dico, lo dico, ripeto, non con un tono dispregiativo. Tutt'altro, proprio per i motivi che ho elencato. E ribadisco, io vorrei sapere cosa c'è, cosa... Quanto amino quello che fanno per poi sentirsi ragazzini ha 43 anni. Nel caso di Pionucci ha 44, questo ha 43 anni. Ragazzino. Ragazzino ancora. Più dei ragazzini. Più motivati e più vogliosi dei ragazzini. È incredibile. Ragazzi, è incredibile. È una roba che a me, ripeto, io... A me piace studiare un po' sti soggetti. Quindi è una roba che mi lascia... Mamma mia. Vabbè. Baldi. Chissà se andrà al Parma, che poi, se andasse al Parma, dico la verità, sarebbe anche... Ci sarebbe anche un... Ecco, una persona così influente lascerebbe anche un ottimo... Un ottimo... Un ottimo ricordo. Perché abbiamo sempre detto che le bandiere non esistono. Abbiamo sempre detto che ormai il calcio è cambiato. Vedere uno che ha fatto comunque che parte attiva della nostra storia di Serie A, del calcio italiano, e che va a concludere la stagione... Sì, la stagione... La carriera in un club dove poi ci ha giocato comunque per dieci anni se andiamo a valutare giovanili e prima squadra, sto parlando del Parma, sarebbe comunque un ottimo ricordo che io in realtà mi auguro. Va bene. Questo è il mio pensiero. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo folle, di questo matto da legare. Un grande abbraccio. Ci aggiorniamo credo stasera per gli europei. Va bene? Un grande abbraccio. Da Nesk.